Non sempre si guarisce del tutto dal Covid-19, anzi la maggior parte dei pazienti che hanno sviluppato l'infezione in maniera severa è costretta a convivere con le sue conseguenze per lungo tempo, perciò è necessario un percorso specifico di diagnosi e cura a cui dovrebbero essere sottoposti in primis tutti i pazienti colpiti dalle forme più gravi in ambulatori dedicati al post-Covid. In Puglia però ne è stato istituito uno soltanto a Bari, il Salento e il resto della regione invece restano ancora scoperti da questa assistenza pur necessaria e indispensabile per molti reduci del Covid. Lo sottolinea in una nota il consigliere regionale e presidente del Movimento Regione Salento Paolo Pagliaro. Ecco perché continua, ho presentato una mozione che impegna l'Aggiunta a colmare questa grave lacuna istituendo in ogni provincia almeno un ambulatorio dove i postumi della malattia vengano monitorati senza sottovalutare alcun sintomo questo è un servizio che deve essere assicurato su tutto il territorio regionale in maniera capillare mi auguro, conclude Pagliaro, che la mozione, vista la delicatezza e l'urgenza del tema venga sottoposta in tempi rapidi all'esame del Consiglio regionale e trovi un'anime condivisione per offrire a tutti i cittadini provati dal coronavirus, da Foggia a Lecce il sostegno della sanità pubblica nel cammino verso la completa guarigione.